Fox FA di partite importanti, di finalissime, ne ha giocate tante nella sua carriera. Domani arriva una veramente importante per Piacenza. Quali sono le tue sensazioni? La partita, diciamo. La partita nel senso che è quella dentro o fuori per quanto riguarda i play-off. Quindi sicuramente una partita da vincere. Le sensazioni sono buone, nel senso che i ragazzi secondo me stanno bene, si stanno allenando bene. È ovvio che vai a giocare contro una squadra che, abbiamo visto anche durante la settimana, può battere chiunque. Dura, dura. Vediamo, ci proviamo. Ripeto, i ragazzi stanno bene. Perché no? Se non entri in campo con lo spirito giusto, queste partite qua le perdi velocemente. Piacenza fa sicuramente un'arma in più, ovvero il pallabanca, al 100% di capienza. Che tipo di palazzetto ti aspetti? Il palazzetto pieno è un unicum questa stagione, anche l'anno scorso. Quindi non ci saremo abituati. Dovremmo rivivere quelle sensazioni lì. Sicuramente saranno sensazioni positive. Mi auguro veramente che Piacenza risponda a questo appello, anche perché è una partita senza domani. Quindi noi siamo pronti. Spero che anche la città lo sia. Una partita che vale veramente una stagione. Quali sono le sensazioni dei tifosi? Sì. Domani speriamo di vedere una squadra sul pezzo, come si dice. Le potenzialità in teoria ci sarebbero per vincere la partita. Però giochiamo contro una squadra molto molto forte. Piacenza quest'anno ci ha fatto vedere degli alti e bassi. Perde con squadre medie, però va a vincere a Civitano, a Modena. Nel pallavolo non si sa mai, nello sport non si sa mai. Perciò speriamo, a meno di fare la bella figura, come nelle Final Four. Quello che è certo è che sicuramente ci sarà un palavanca vestito a festa. Il 100% di capienza non succedeva da diverso tempo. Bella cosa, prima volta quest'anno, prima volta da tanto tempo. Speriamo, a meno che sia una bella festa, di divertirci. Speriamo.